Non è semplice trasformare la notorietà quasi caduta dal cielo per sbaglio in fama duratura. Il processo è riuscito a pochi. Tra questi c'è Luca Argentero, 45 anni ed ex, tante di tante cose prima di imporsi come uno degli attori più amati dagli italiani. Il trampolino di lancio fu il grande fratello che lo fece conoscere a milioni di persone. Non lui che ha saputo far rendere al massimo quell'esperienza, creandosi una carriera stellare a suon di Chuck. Intervistato dal Corriere della Sera, ha rivelato diversi aneddoti curiosi relativi alla sua ascesa, come quello relativo alla coda saltata per i casting del grande fratello. Tutto merito della sua famosa cugina Alessia Ventura. Lei, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra 5.000 concorrenti, ma i, dopo il GF, ecco le prime esperienze di recitazione. Il Physique du Rôle c'era, la notorietà pure. Mancavano però le competenze all'inizio. Argentero però ebbe comunque una chance a Carabinieri, fiction di grande successo. Come lui stesso ha rivelato, all'epoca non sapeva recitare, ma fu comunque arruolato, era la verità. Mi scelsero perché in quel momento, dopo il GF, ero molto popolare. Mi rivedo com'ero allora, un ragazzo inesperto, che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dall'insicurezza. Sul set con Julia Roberts e la consacrazione con Ferzan Ospetek. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata. Luca si è messo a studiare parecchio, migliorandosi. Non tardarono ad arrivare altri lavori. Così eccolo sul set con Julia Roberts in mangia. Prega. Ama. Lì ho capito come si riconosce una grande star. Non dai milioni di dollari del cachet, ma dalla luce magica che le si accendeva negli occhi appena gridavano. Ciak. Azz.